ciao e bentornato e benvenuti a tutte e tutti in un nuovo video aspettate che regolo un po' la luce aspettate ok allora in questo video perdonate il rumore della lavatrice che è appena finito voglio parlarvi di un detersivo ecologico per la lavatrice sapete che il più possibile sto cercando di avvicinarmi all'ecobio per quanto riguarda i detersivi cercare di utilizzare le cose un pochino più ecologiche possibile anche se non sono una che se va al supermercato trova in offerta il dash non lo compra nel senso che cerco di limitarmi ma dipende sempre comunque un attimino anche dalla dalle offerte eccetera ho trovato da tigota a proposito in offerte questi mi hanno incuriositi incuriosito molto e devo dire la verità che per come me ci sto trovando potrei pensare di passare totalmente a questo tipo di detersivo il detersivo in fogli allora la marca che ho trovato io è la wave wash in love e appunto è 100% solubile appunto in fogli va bene sia per lavare a mano che in lavatrice è ecologico biodegradabile e all'interno ci sono 8 fogli voi direte sono pochissimi no perché ogni foglio vi faccio vedere è composto da due strisce praticamente un foglio ha due strisce divisibili per un lavaggio basta mezza striscia ovvero una striscia solo dice che con mezzo foglio praticamente si riesce a fare un lavaggio da 5 kg cioè scusatemi si riescono a fare due lavaggi da 5 kg si quindi con una striscia un lavaggio da 5 kg naturalmente dice che se lo sporco è ostinato quindi avete dei capi parecchio sporchi da lavare conviene un foglio intero non metà e non va bene per lavare la lana allora il profumo è molto delicato si sente che è un detersivo comunque ecologico è veramente delicato piacevole devo dire che persiste anche sui capi una volta che sono stati lavati e praticamente è composto da essenza glicerina amido tensiattivi agnonici tensiattivi anfoteri che non ho idea di che cosa siano e tensiattivo non ionico naturalmente appunto essenza e come funziona io ad esempio la lavatrice col carico dall'alto si posiziona il foglio in fondo al cestello e poi si mette la roba che dobbiamo lavare invece se sia la lavatrice diciamo normale si inserisce anche questa nel cestello o nel dispenser come preferite voi io mi sto trovando bene perché comunque i capi vengono puliti profumati come se utilizzassi un detersivo per la lavatrice normalissimo non trovo residui di fogli nella lavatrice che ho letto su internet che qualcuno diciamo io ho trovato i residui granulati del foglio nella lavatrice no io no quindi viene completamente utilizzato tutto e appunto mi trovo bene ripeto essendo che ecologico e quindi fa bene all'ambiente sinceramente se a fine scatola vedo che i risultati comunque appunto mi soddisfano continuerò sicuramente a ricomprarlo perché perdonate il bello della diretta e anche questo è caduto appunto vi dicevo continuerò a comprarlo perché se fa bene l'ambiente fa bene anche a noi e insomma ci sta e nulla io sinceramente mi sento di consigliarvelo perlomeno provate vedete come vi trovate anche voi in modo che appunto si possano avere un pochino più pareri e consigli da dare io ripeto mi trovo bene l'ho trovato da tigota la marca è wave c'era anche un'altra tipologia c'era mi sembra anche quello per i capi dedicati dei bambini comunque insomma è ottimo in più è tutto riciclabile perché la scatola in cartone e il contenitore della bustina di plastica potete riciclarla quindi assolutamente un ottimo prodotto e nulla io vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanellina e lasciate un like di supporto io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao